musica Sciacca al Centro festeggia dieci anni di attività ieri sera vi siete riuniti ma l'occasione al di là degli auguri per le festività è stata quella di fare il punto sulla situazione politica locale ed è venuta fuori anche da parte vostra questo iniziare a parlare di mozione di sfiducia non era stato così in fondo fino a qualche giorno fa? Diciamo intanto che era un'occasione che tradizionalmente noi mettiamo in campo durante il periodo natalizio ci scambiamo gli auguri con i nostri amici, con i simpatizzanti con coloro che in questo lungo decennio ci hanno sostenuto io vorrei ricordare che Sciacca al Centro è stata forse l'unica lista civica che ha avuto la capacità di presentarsi per tre consigliature consecutive per tre elezioni e oggi coinvolgere persone che si vogliano presentare candidare al Consiglio Comunale non è facile quindi abbiamo festeggiato, ci siamo fatti gli auguri ma naturalmente essendo un'associazione politica è anche emerso un messaggio politico che non proviene tanto da noi operatori cioè da chi ogni giorno vive la politica ma anche da molti cittadini presenti un sentimento di profonda preoccupazione per il futuro del nostro territorio della nostra città perché questa complicata crisi politica che ha totalmente sfilacciato la compagine amministrativa la maggioranza è preoccupante rispetto alle sfide che il Paese deve affrontare nei prossimi anni e ci sono ancora due anni e mezzo di consigliatura e quello che è emerso è che davvero ci sembra molto complicato molto difficile che questo periodo possa essere affrontato in queste condizioni quindi io penso che sia un momento in cui bisogna assumere delle scelte responsabili questa della mozione di sfiducia è una scelta che si dipende dalle forze politiche ma dipende anche e soprattutto dai consiglieri comunali quindi dovranno essere i consiglieri comunali a assumere le conseguenti determinazioni certo tenendo conto anche di quello che pensano coloro i quali li hanno eletti e ieri sera nel corso della nostra riunione è emerso che in assenza di una prospettiva diversa la mozione di sfiducia è certamente un mezzo perché si possa tornare ad essere amministrati da una compagine all'altezza della situazione Lei è stato sindaco della città e quindi è consapevole del fatto che la mozione di sfiducia rappresenta un momento di rottura forte non solo per l'amministrazione in carica ma per tutta la città perché a suo avviso si dovrebbe arrivare a questo momento pur nelle difficoltà che tutti i comuni hanno? Ma non ci sono dubbi che oggi amministrare è complicato che i sindaci proprio ieri nel corso della riunione del Lancia hanno lanciato un ennesimo grido di allarme però non si può amministrare una realtà complessa come quella di Sciacca senza una compagine che abbia il senso della squadra nel senso proprio della situazione assolutamente che si concretizza in un programma che si vuole portare avanti in una prospettiva che abbia il carattere della concretezza assolutamente tutto questo non mi pare che ci sia c'è stato uno sfilacciamento continuo dal primo zeramento poi dal secondo cambio in amministrazione poi adesso nella ultima puntata in cui alcune forze politiche che hanno sostenuto la maggioranza sono venute meno e quindi c'è una situazione consigliare che non consente di andare avanti mentre nel corso dell'ultima occasione del bilancio di previsione si è approfittato della vicenda degli LSU che poi ha delle sfaccettature che io avevo individuato in maniera un po' diversa ma ormai è acqua passata e quindi sulla base di quel problema che occorreva affrontare e risolvere poi il bilancio è passato in secondo piano quindi le scelte politiche fondamentali per un territorio sono passate in secondo piano in futuro questo non potrà esserci più quindi ci saranno certamente altre occasioni in cui non c'è una maggioranza e non si possono costringere forze politiche che non condividono un determinato percorso a farlo sulla base di un ipotetico bene comune che non esiste quindi io penso che se non ci sono e non mi pare che non ne vedo all'orizzonte situazioni diverse il senso di responsabilità debba portare naturalmente i consiglieri comunali verso quella direzione ma ripeto è una dinamica che attiene tutta al consiglio comunale questa proposta era stata avanzata anche nel corso dell'ultima seduta consigliare dal Calogero Bono, da altre componenti del centrodestra voi vi eravate mantenuti sciacca al centro intendo con il consigliere Monte un po' sulle vaga non l'avevate avallata insomma perché che cosa è cambiato in questi giorni che vi ha portato anche a sostenere poi questa ipotesi? No, non mi pare che Salvatore Monte avesse assunto un atteggiamento diverso c'era una esigenza anche di condivisione complessiva lui è molto legato anche ai suoi elettori cioè a chi ha contribuito a portarlo in consiglio comunale quindi aveva questa esigenza di sentire un po' anche i suoi amici ieri sera credo che il messaggio che gli sia pervenuto vada verso questa direzione e d'altronde devo dire che su questo tema all'interno della compagine diciamo tradizionale del centrodestra non mi pare ci siano delle diversità perché avendo svolto un ruolo di opposizione di due anni e mezzo quindi un periodo abbastanza lungo in cui si sono evidenziate tutta una serie di mancanze perché poi il tema serio che dovremmo affrontare è anche di merito cioè oggi non c'è dubbio che Sciacca ha perso la sua centralità che ci sono tutta una serie di cose che sono venute meno in termini di servizi, di eventi, di proposta turistica di welfare, di lavori pubblici, di interventi finanziari di reperimento di finanziamenti esterni cioè ci sono una serie di cose che la opposizione ha evidenziato dopo un periodo abbastanza lungo di due anni e mezzo di aver evidenziato queste cose credo che ci sia una condivisione verso una direzione di alternativa all'attuale amministrazione il consigliere Monte ieri sera ha ascoltato i suoi amici e quello che è venuto fuori lo ribadisco non è tanto il frutto del pensiero degli operatori politici ma dei cittadini che erano presenti Senta le chiedo per una mozione di sfiducia ci vogliono i numeri e i tre consiglieri che si intestano al senatore Cusumano hanno ribadito recentemente di non far parte più di questa maggioranza però di non volere al momento sostenere una mozione di sfiducia quindi? ma infatti qui non si dice che si va verso un momento che è così come bere un bicchier d'acqua evidentemente essendo la legge prevedendo la legge dei numeri che vanno al di là degli schieramenti un atto di questo genere è un atto trasversale cioè è un atto che deve trovare una condivisione verso una determinata direzione da parte di soggetti politici che hanno militato si sono presentati all'elettorato in diverse coalizioni quindi è chiaro che il centrodestra o comunque quella parte dell'opposizione anche diversa che in questo momento non milita nella compagine amministrativa dovrà avere un ruolo di un certo tipo anche di sollecitazione se riterrà di farlo gli altri poi assumeranno le decisioni che vorranno assumere è chiaro che questo dovrà costituire oggetto di approfondimento tra le forze politiche ma sarà ripeto un momento che probabilmente vedrà coinvolti i consiglieri comunali nei prossimi giorni e nelle prossime settimane In ultimo il centrodestra è pronto sta lavorando ad una alternativa poi eventualmente per una guida della città e lei sarebbe disponibile a rappresentare eventualmente questa coalizione a tornare in campo? Io non tanto ne sono mai andato dal campo io ho svolto il mio ruolo nel mio quinquennio poi per tutta una serie di ragioni che ho spiegato più volte ho deciso di non ricandidarmi ma ho sempre detto che io non abbandonavo l'attività politica tant'è che sia attraverso l'associazionismo politico ma recentemente anche attraverso l'adesione a un partito politico io sono tranquillamente rimasto in campo il futuro non può essere deciso da nessuno di noi tantomeno da me il futuro appartiene a momenti di condivisione che evidentemente sfuggono alle logiche personalistiche assolutamente non c'è in questo momento in me nessuna intenzione di questo tipo c'è questo lo devo ammettere con franchezza una grande preoccupazione per il futuro della mia città del territorio che ho amministrato e devo dire al di là di quello che possono pensare alcuni quali mi dicono ah ma tu lo avevi detto due anni fa che lo slogan è mai più cinque anni così se lo sarebbero rimangiati no io non ho questo atteggiamento invece ho un atteggiamento di profonda preoccupazione perché vedo che Sciacca ha perso la sua centralità io ricordo che noi eravamo arrivati a un passo dall'essere la città capologo del libero consorzio noi eravamo a capo dei gruppi di azione costiera siciliani noi eravamo a capo del distretto turistico abbiamo realizzato eventi in cui qui sono venuti tutti i sindaci del territorio quindi avevamo raggiunto insieme agli altri comuni perché era anche un atteggiamento collaborativo un momento di centralità il mio sentimento è una profonda preoccupazione perché questo tipo di situazione oggi è molto venuto meno